Parliamo questa volta delle comunità montane del Molise e di una legge appunto regionale, la numero 6 del 24 marzo del 2011, attraverso la quale la Regione Molise, ritenendo di adottare tutte le misure di riorganizzazione e nel criterio di un riassetto del sistema dell'esercizio delle funzioni amministrative, contempla e prevede la soppressione e la successiva estinzione appunto delle comunità montane e l'istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei territori montani. Sono parole scritte dal consigliere regionale Massimiliano Scarabbeo che ha presentato una interrogazione a risposta scritta e orale su tale problematica e infatti afferma che per tale percorso legislativo e per questi presupposti sono stati nominati dei commissari al fine di adottare gli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni l'ordinario funzionamento delle comunità montane fino alla loro liquidazione. Scarabbeo continua ed afferma che a distanza di anni però, benché lo spirito della legge fosse anche quello di favorire lo svolgimento delle funzioni esercitate dalle soppresse comunità in forma associata tra i comuni attraverso convenzioni o unioni tra essi, poco e niente è stato fatto in proposito. In pratica si è finito per mantenerle in vita tenendole in una sorta di stato vegetativo svuotate di funzioni con attrezzature e macchinari in alienazione e personale ricollocato altrove, presso altri enti e strutture della regione. La cosa diventa assurda se si pensa che non forniscono più servizi ai comuni che però si ritrovano costretti a pagare le quote associative senza ricevere nulla in cambio e se si coglie il senso della decisione della regione che ha addirittura inserito nel proprio bilancio di previsione 2017-2019 somme per diversi milioni di euro a titolo di contributo per il funzionamento degli uffici e degli organi appunto delle comunità montane del Molise. Da qui l'interrogazione con la speranza di porre fine finalmente ad una situazione particolarmente non chiara e non adeguata.